Buonasera, ho scelto questo mezzo per raggiungere il maggior numero possibile di sostenitori e di fans che per tutti questi anni mi sono stati vicini, che mi hanno dato molto e a cui immodestamente credo di aver dato altrettanto, ma d'altra parte il tempo passa e non si può fare tutto per sempre per cui attraverso questo mezzo volevo darvi questo annuncio che probabilmente colpirà molti di voi come un fulmine a ciel sereno. Ecco io il 14 febbraio prossimo darò l'addio alla mia attività di scuotitore di mostri. Buonasera.